Salve cari studenti. Vorrei presentarti Sandro. D'ora in poi sarà nella nostra classe. Ciao ragazzi. Sono Sandro. Vengo da Buenos Aires. Benvenuto nella nostra classe Sandro. Un nuovo ragazzo è davvero carino, vero? Ho occhi solo per Marcus. Penso che sia davvero sexy. Viene persino dall'Argentina. Qualsiasi cosa tu dica, Sara. Ehi tu sei Lisa, vero? Sì, è vero. Perché me lo stai chiedendo? Davvero come? Davvero adesso? Hai voglia di un gelato dopo la scuola? No, ho un ragazzo. Arrivederci Sandro. Cosa voleva? Penso che tu piaccia a Sandro. Che succede a Sandro? Oh, niente tesoro. Forza, andiamo a prendere un gelato. Ok, perché no? Ciao Miriam. Ehi Sandro. Cosa stai facendo qui? Pensavo stessi scherzando. Ma in realtà sei venuto qui. Mi deve ancora un favore. Per non aver detto a nessuno il tuo segreto. Voglio un favore da te adesso. Cosa vuoi da me? Voglio che tu lo faccia qui. Oh mio Dio. È un mostro. Non posso farlo. Spezzerai il cuore di Lisa. Oh sì, lo farai. Altrimenti racconterò a tutti cosa è successo l'estate scorsa. Ti prego, non farlo. Allora ci vediamo domani. Attenetevi al nostro accordo. Hai capito? Sì, Sandro. Molto bene, ci vediamo domani. Ehi Marcus, tesoro mio. Come stai? Sì, va tutto bene e con te? Ho bisogno del tuo aiuto per qualcosa dopo la scuola. Sì, certo. Di cosa si tratta? Stai davvero bene? Sembri così nervoso. Ora devo solo trovare il suo cellulare. Molto bene, eccola. Ti porto un bicchiere d'acqua. No, non voltarti. Messaggio inviato. Cosa, per favore? Sì, un bicchiere d'acqua sarebbe fantastico. Sei strana oggi, Miriam. Ora devo andare, la lezione sta per iniziare. Ok, ci vediamo dopo Marcus. Ehi Lisa, hai un minuto? Non proprio. Devo andare a lezione. Ma è importante. Non posso parlare adesso. Parliamo dopo. Si tratta di Marcus. Che mi dici di Marcus? Penso che stia cercando di tradirti. Non lo farebbe mai. Perché diresti qualcosa del genere? Mi ha mandato un messaggio. Te lo devo mostrare. Fammi vedere. Ciao Miriam. Ho notato qualcosa. Ti amo solo tu. Non voglio più stare con Lisa, voglio stare con te. Saluti Marcus. È vero. Marcus voleva davvero tradirmi. Non ci posso credere. Mi dispiace Lisa. Ho dovuto dirtelo. in modo che tu sappia la verità. Voglio solo andarmene da qui. Lisa, cosa stai facendo qui? Va tutto bene? Sembri un po' triste. Non ne voglio parlare. Ne sei sicuro? Questo di solito aiuta. Posso fidarmi di te? Sì, fidati di me. Parlo per esperienza. Il mio amico vuole tradirmi. Oh no. Davvero? Sì, l'ho visto con i miei occhi. Mi dispiace tantissimo per te. Cosa devo fare adesso? È meglio dimenticarlo il prima possibile. Ti meriti di meglio? Lo pensi davvero? Sì, vieni con me. So cosa ti tirerà su di morale. Grazie per avermi portato a scuola, Sandro. È stato davvero carino da parte tua. Nessun problema, Lisa. Adoro farlo. Cosa sta succedendo, Lisa? Perché sei con Sandro? Non sono affari tuoi. Posso fare quello che voglio, capito? Ma volevo portarti a scuola. Ne sei sicuro? Penso che volessi portare Miriam a scuola, non io. Cosa intendi con questo? Sai esattamente cosa intendo dire. Guarda il tuo telefono. È scritto in bianco e nero. Ho visto il messaggio, Marcus. Forza Sandro, andiamo. Ok cara. Che diavolo sta succedendo qui? Che tipo di messaggio intende dire? Lisa, aspetta. Lisa se n'è già andata. Non ho fatto niente. Che diavolo è quello? Non l'ho scritto io. C'è qualcosa che non va qui. Devo parlare con Miriam. Ciao Marcus. Come stai? Non fingere di essere gentile, Miriam. Cosa sta succedendo? Che tipo di messaggio è quello sul mio cellulare? Non so cosa intendi. Sai esattamente cosa intendo. Non sono stato io a scrivere quel messaggio. Nemmeno io. Chi era allora? Questo non posso dirtelo. Quindi sai chi è? Mi dispiace ma non posso proprio dirtelo. Inizia a parlare adesso, Miriam. Oppure abbiamo un problema serio. Ok, ma per favore non dirlo a nessuno. Non lo dirò a nessuno, lo prometto. Era Sandro. Me l'ha fatto fare. Sapevo che c'entrava qualcosa. Cosa stai facendo adesso? Risolverò tutto con lui. Ti prego, non farlo, Marcus. Lo stai sottovalutando? Lo vedremo dopo. Marcus, aspetta. Fermati. Cosa facciamo oggi, Sandro? Tutto quello che vuoi, Lisa. Possiamo andare al cinema se vuoi. Suona bene. Lisa, ho davvero bisogno di parlare con te. Cosa stai facendo qui, Marcus? Non ho niente da dirti. Ti prego, ascoltami per un minuto. Non è come sembra. Oh, guarda chi c'è. Ora i piccioncini sono uniti. Devo dirti una cosa, Lisa. Sono stato ricattato. Non voglio nemmeno sentirlo. Vi meritate davvero l'un l'altro. Ora sparisci dalla mia vista. Ti prego, dammi un'altra possibilità, Lisa. Non hai sentito cosa ha detto? Non vuole parlare con te. Basta andarsene da qui. Prima che succeda qualcosa. Da quando sei qui, ci sono stati solo problemi. Faresti meglio ad andartene da qui. Cosa mi hai appena detto? Che dovresti andartene subito da qui. Te ne vai adesso, Marcus. Mi hai appena spinto? Sei pazzo? Prendi quello. Ai! Cosa c'è che non va con te, Marcus? Stai bene, Sandro? Ti sei fatto male? Credo di essermi rotto il braccio. Questo non è vero. Non ti ho nemmeno toccato. Non voglio vederti mai più. Da dove viene Sandro? A. Argentina. B. Brasile. C. Costa Rica. Lascia un commento. B. Brasile. No.